La parrocchia di San Giovanni Battista in Sovelia Mannelli ha voluto istituire il premio San Giovannino appunto per rendere ancora più visiva e attuale la testimonianza di Giovanni Battista colui che ha indicato il Cristo ma che nella sua vita non ha avuto paura di indicare la giustizia, la lealtà, l'onestà anche di fronte a quelli che potevano essere i poteri e i poteri forti del suo tempo Per noi poterlo conferire a Gaetano Saffioti diventa allora dare voce a chi lotta quotidianamente per la giustizia nella nostra regione Grazie